Mirabelli è tornato a parlare, il futuro del ragazzo sarà sempre rosso-nero? Io non capisco perché voi volete purtroppo parlare di Donnarumma. Io non credo che c'è niente da parlare di Donnarumma e di Mirabelli. Io sono un uomo piccolo, l'ha detto Mirabelli e lui se la deve fare solo con gli uomini grandi. Un giorno che sono diventato grande, magari Mirabelli mi degna di parlare con me. Per adesso a me mancare con Mirabelli non ho queste mancanze, quindi non ho ancora raggiunto il livello di parlare con Mirabelli. Un giorno magari qualcuno mi dà il diploma o mi consiglio bravo, forse mi fanno parlare con Mirabelli.